Sono felice di stare qua, ma mi piace. Sono contento. Speriamo che tutto sia molto bene. Quien torna a me gira del mondo, come sempre nel mondo. La paloma è la paloma. La paloma è la paloma. La paloma è la paloma. Echale mani a la paloma. Il mondo. Il mondo gira nel espacio infinito. Con amore che comienzan, con amore che si hanno ido. Con las penes allegria della gente come io. Il mondo. Llorando ora io te busco. In il silenzio io me pierdo. E non sono niente aperto qui. Il mondo. Non si è parato n'un momento. Il mondo. Su noce muore. Llega il dia. Llega il dia. Llega il dia. Vendrà. Mundo. Il mondo. La 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 la. Llega il dia. La 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 la. O lo facciamo bene. Perché questo è un video che va in Europa. Quindi lo che vuoi è importante. E' un. E' un. E' una cosa che farà la mia. Però è la mia la nostra. Lo va a fare? La 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 la. Viene. La 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 la. Viene. un po' di più, 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 un po' di più. Questa è linda, è bellissima. Buon abbraccio, no te ria, Meilin. No te ria. Buon abbraccio, buon abbraccio. Buon abbraccio. Che si può dire? Si, c'è molto sole. Siamo qui con un tremendo sole. A plena doce del giorno. Filmando il video di Aldo, mio amico italiano. Quindi, siamo... Che tutto si fa bene, è quello che vogliamo. Siamo lavorando duro per avere un esito importante qui in Cuba e in tutto il mondo. Per me è un onore lavorare con un grande diretor come Ariel. Ariel Napo. Anche estilista, ora fotografe. Anche il mondo non si è tanto... E con Pepe, per me è stato il numero uno. E con Pepe, per me è stato il numero uno. Molto ma, muchachita, molto grazie. Non ci sono mai ria, mi hanno fatto che guarda. Antonio. E Antonio, anche. Antonio, anche, Antonio. Antonio che è? Molto grazie a tutti i bailarini, che hanno potuto dare loro su servizio, i bailarini di Paledra, di la televisione cubana e anche i alcuni della danza che hanno potuto essere in la calificazione di questo video e mi sembra che è stato un lavoro magnifico